E' chiaro a tutti. Cambiano i protagonisti della politica, ma la politica cambierà davvero. Il nuovo programma di Emilio Carelli. Il senso che è credito che se costa troppo. Da questa terrazza, nel cuore di Roma, raccontiamo pregi e difetti della politica in modo trasparente e concreto, senza fare sconti a nessuno. Vi aspetto. Rapporto Carelli. Ogni mercoledì a mezzanotte, su cielo.